e buongiorno a tutti oggi siamo con Anna e Michael che ci raccontano il loro percorso praticamente insieme nel mondo della chirurgia dell'obesità. Allora ragazzi chi di voi comincia a raccontare? Vado io dai allora ciao a tutti mi chiamo Anna ho 35 anni e sono stata obesa praticamente per tutta la vita avevo già iniziato qualche anno fa a guardare l'operazione perché me ne aveva parlato mio papà ancora dieci anni fa non so se lui intendesse la sleeve come operazione però mi aveva proposto dieci anni fa di fare appunto un'operazione bariatrica solo che quella volta io non me la sentivo poi ho sempre detto ma no ma ce la faccio da sola faccio la dieta faccio l'attività fisica sono ancora giovane ho tempo e non l'ho voluta fare poi ovviamente andando avanti non sono mai riuscita comunque con l'attività fisica e con la dieta a ottenere un risultato voluto poi ho avuto anche delle problematiche con la tiroide e quant'altro esattamente e dopo un anno fa due anni fa più o meno è morta mia sorella e quindi da lì è come ha avuto un click no e ho detto cavolo la vita comunque è una sola si può perdere subito diciamo varie problematiche quant'altro non voglio non voglio perdere l'occasione di poter stare bene e quindi ho deciso di fare la prima visita e informarmi sempre di più insomma per quanto riguarda la chirurgia bariatrica e da lì dalla prima visita poi spostato tutto a settembre perché avevo paura che con il caldo potessi avere problemi perché la prima visita l'ho fatta a giugno e mi ha ho fatto poi ho cambiato istituto sono passata in un istituto un po più vicino e lì ho fatto un'altra prima visita con un'altra dottoressa con una chirurga e ho iniziato il mio percorso praticamente e in tutto questo Michael era lì con te perché davate già insieme giusto quindi per la prima volta posso chiedere a un marito la persona cara marito si la persona cara come ha vissuto questa cosa da fuori perché anch'io stesso l'ho vissuto in funzione di mia moglie ma non so fuori gli altri quali sono le loro storie quindi credo che sia molto interessante è bello sentire anche come tu l'hai vissuta Michael intendi proprio il fatto dell'operazione in sé o anche il periodo prima guarda un po tutto nel senso che io immagino io mi sono immaginato tante volte come può essersi sentita mia moglie quando a un certo punto le ho detto sai oggi ho sentito parlare di questo di quello sto pensando di farlo anch'io quindi credo che sia un po da quel momento in avanti quello che si pensa le paure i timori o magari le speranze o magari non lo so perché è un mondo visto di riflesso a qualcuno che ci ama che però viene vissuto in un altro modo e quindi penso che sia molto molto interessante proprio come l'hai vissuta tu cosa hai trovato difficile cosa hai trovato facile dove ti sei trovato a tuo agio dove invece magari non eri ora molto convinto in un primo momento l'idea di un'operazione non mi entusiasmava tanto ma non per il fatto dell'operazione in sé perché avrei preferito che Anna riuscisse da sola a risolvere il problema del peso però non è dopo ci siamo ci siamo confrontati erano anni che continuava con tentativi infruttuose che non facevano altro che farla stare male l'ho vista l'ho vista decisa cioè si era decisa a fare questa cosa e non era un'idea campata per aria perché lei ha fatto comunque tutto un percorso psico psicologico prima di affrontare la visita che l'ha preparata lei ogni tanto mi racconta anche le vicissitudini di altre persone che come voi hanno fatto la sleeve o comunque l'intervento variatico per la riduzione del peso e molti non riescono poi a di perdere peso quanto vorrebbero addirittura tornano al peso precedente o hanno problemi perché sono persone che fanno l'intervento senza aver diciamo curato il problema che li ha portati ad avere problemi con il peso sì bravo hai detto proprio bene esatto cioè diciamo è come se una persona che ha problemi di dipendenza da una sostanza io tirassi via la sostanza rinchiudendo in una stanza per un mese poi quando i sintomi della silenza sono finiti la faccio uscire quello ciò che l'ha portato a abusare di quella sostanza i problemi personali ci sono ancora e quindi ci torna subito al capofitto credo che tu abbia proprio ragione Anna l'ho vista decisa di questa sua convinzione di fare l'operazione ero preoccupato più che altro per il tempo dopo per il recupero per quanto ci sarebbe voluto per ritornare ad avere una alimentazione più o meno normale ma perché avevamo anche un progetto insomma di iniziare una famiglia che si sta avvicinando sempre di più e quindi pensavo un po' al tempo del recupero io pensavo a dei tempi molto più lunghi in realtà Anna è stata molto brava che belli che siete mi piacete un sacco e quindi dicevi Anna adesso quanto tempo è passato dal tuo intervento? è passato un anno e tre mesi io ho perso 65 chili complimenti e niente sono tanto contenta comunque è stato un percorso alto allenante nel senso che ci sono stati dei momenti no dei momenti bellissimi dei momenti difficili dei momenti in cui ogni tanto ho detto ma chi me l'ha fatto fare però sono molto contenta cioè adesso riesco a camminare riesco a fare le scale riesco a fare non so quest'estate siamo andati perché io sono friulana no e quindi siamo andati a Lignano dove c'è mio papà la mia famiglia e siamo andati al monte Lussari a fare una la passeggiata appunto per salire su al monte e prima una cosa del genere non avevo mai potuto farla invece l'ho fatta in tre ore siamo saliti morti però è stato bellissimo per dire quindi io sono tanto felice adesso post operatorio è andato liscio? hai avuto qualche complicazione? no tutto liscio anche il dolore non c'è stato sì un po' di fastidio ma niente di che non ho avuto nessun problema assolutamente sono stata a riposo ho fatto tutto quello che mi hanno detto i medici ho seguito anche la dieta tutto ho seguito come mi hanno detto loro e Michael tu che la vedevi da fuori come l'hai vista subito dopo l'intervento? l'hai vista debole? l'hai vista contenta? l'hai vista preoccupata? insomma come l'hai vissuta tu? come l'hai vista? allora senza altro subito l'intervento addolorante insomma con tutte le complicazioni del fatto di non potersi muovere subito però l'hai affrontata bene ci sono stati dei momenti in cui seguire la dieta era un problema ma non per che ne so delle voglie sue ma perché spesso la lasciava senza senza energie e continuava a fare tentativi per vedere quello che riusciva a mangiare che non riusciva a mangiare come ha detto lei ci sono stati dei momenti un po' un po' difficili però ci sono state anche tante soddisfazioni è letteralmente rinata ma non soltanto dal punto di vista fisico anche psicologicamente l'ho vista molto più serena più contenta ha ricominciato a sorridere sempre di più cosa che prima avveniva meno sia per il luto derivante della morte di sua sorella ma anche proprio perché fisicamente ogni volta prima ce n'era una non riusciva a dormire le ore di sonno che aveva bisogno quindi si sentiva stanca c'erano sempre problemi perché lei era stata operata anche al ginocchio e quindi il peso poi su quello influiva anche se l'intervento chirurgico era andato bene sì di nuovo se non risolvi il problema che magari ha causato il ginocchio dei problemi il ginocchio lo rimetti nuovo ma poi esatto ci ricominci da capo no? è un po' quello che dicevi prima si applica un po' a tutto anche a queste cose insomma è proprio rinata è proprio rinata e sono cambiati anche i rapporti con alcune delle persone che le stavano attorno secondo voi ognuno di voi in quanto tempo dopo l'intervento gli effetti diretti dell'operazione quindi diciamo la stanchezza la difficoltà a trovare cosa mangiare si sono risolte e quindi ha potuto riprendere una vita che non era più condizionata dall'intervento in quanti mesi più o meno da poco non da poco perché comunque ancora faccio ogni tanto fatica e diciamo che comunque io non sono mai riuscita a mangiare come c'è scritto nella dieta diciamo io mangio molto meno rispetto a quello che c'è nella dieta che mi hanno dato i professionisti e quindi ci sono a volte che sono tranquilla e potrei spaccare il mondo altre volte invece che faccio un pochettino fatica sono un pochettino stanca però sì da poco che riesco proprio a essere proprio in piena forza ecco non è così per tutte le persone ad esempio c'è stata la coincidenza che una persona che lavora nello stesso posto dove lavoro io anche se non nello stesso ufficio diciamo ha fatto l'operazione lo stesso suo giorno ok la stessa operazione per perdere peso e in effetti ha perso un po' di peso però a un certo punto si è fermata e in mese vedevo un pochino quello che mangiava non mangiava più come prima però rispetto alle quantità che mangiava Anna insomma si vedeva che aveva allargato lo stomaco e non lamentava mai fatica eccetera quindi penso che per ognuno ti è diverso ma per l'appunto penso che anche questa persona non abbia affrontato correttamente la cosa anche da un altro punto di vista quindi diciamo che nel tuo caso è un successo parziale proprio perché è importante nel dopo continuare a comportarsi nel modo migliore con il cibo e con le abitudini che ci hanno portato all'obesità voi vi siete sentiti parlo di voi perché comunque vi vedo come coppia che insieme avete un po' affrontato questa cosa seguite e supportate dalla struttura dove eravate o ti sei sentita un po' persa no no sono super seguita posso scrivere quando voglio e loro mi rispondono non ho assolutamente anzi sono molto contenta della struttura che ho scelto sì abbiamo avuto anche molta fortuna sì e dov'è che sei stata operata alla fine? al Beato Matteo a Vigevano ho sentito parecchie persone che sono state soddisfatte di Vigevano sì per cui confermi ancora una volta confermata ancora una volta quello che ho sentito e invece secondo voi lo scoglio più grande che avete dovuto superare? ma allora i momenti in cui non riusciva ad avere abbastanza energie perché non riusciva a mangiare quanto avrebbe dovuto quelli sono stati i momenti più duri per lei e quindi di conseguenza poi supportarla anche in questi momenti io ero preoccupata perché non riuscendo a mangiare abbastanza avevo paura magari di non star facendo in modo giusto la dieta comunque non stavano facendo il percorso in modo giusto infatti io mi tenevo sai quelle applicazioni per vedere le calorie io non tenevo per vedere le calorie che ingerivo nel senso se era troppo ma perché per vedere se ne ingerivo abbastanza e mi aveva detto anche la dottoressa di tenere un attimo sotto controllo per vedere però poi lei mi aveva detto guarda non ti preoccupare datti tempo abbia un po' di pazienza che piano piano poi si sistema io ho paura che andasse a finire sotto peso addirittura perché mi preoccupavo di questa cosa in realtà poi è andato tutto bene invece quando facevi i controlli facevi anche gli esami del sangue si vedeva qualcosa per cui magari ti hanno dato qualche integratore vitamina o gli esami erano a posto allora erano a posto a parte il colesterolo ma semplicemente perché il formaggio era una delle poche cose che digerivo benissimo e quindi mangiavo spesso infatti ancora adesso ho il colesterolo un po' altino si è abbassato perché ho smesso di mangiare i formaggi perché adesso mangio un po' di tutto però il colesterolo è ancora un po' alto vuoi sapere un segreto? io adoro i formaggi e non ho mai avuto problemi di colesterolo né prima né dopo è una componente genetica alcune persone hanno un metabolismo che lo gestisce meglio probabile io sono fortunato quindi comunque sia se tu dovessi tornare se doveste tornare entrambi ad Anna e Michael prima dell'intervento qual è secondo voi la cosa che vi direste per farvi coraggio e per tranquillizzarvi? che c'è sempre la luce in fondo al tunnel e secondo me non bisogna avere paura di queste cose ovvio bisogna stare attenti bisogna fare le cose con la testa però è un percorso che ti salva la vita e secondo me io lo consiglio sempre sinceramente quando vedo delle persone magari titubanti o comunque che mi chiedono delle informazioni perché spesso ovviamente mi hanno visto cambiare da così a così e quindi mi fanno delle domande io lo consiglio sempre almeno di andare a fare la visita e vedere delle informazioni leggere su internet e fare la prima visita con il chirurgo certo perché la prima visita hai un'idea di che cosa è probabilmente la cosa più adatta a te indipendentemente da quello che leggi su internet è proprio la tua prima visita la tua situazione e vuol dire tanto e Michael tu se potessi tornare indietro lasciarti un messaggio di supportare tanto Anna e i momenti in cui magari è preso dallo sconforto perché pensa che insomma che non ci sarà mai non riuscirà mai a trovare un equilibrio per quello che mangia e per riavere indietro le energie passeranno poi se posso dare questo è un consiglio che darei anche agli altri se posso dare un consiglio di fare come ha fatto lei cioè di non affrontare l'operazione senza aver fatto anche un percorso psicologico che vada di pari passo è estremamente importante si concordo infatti hai anticipato la domanda che avrei voluto fare cioè qual è la cosa che suggeriresti soprattutto Michael che ripeto per me è la prima volta in cui parlo con il marito che è stato vicino e quindi ha vissuto tutta questa cosa insieme ok per tutti quei mariti parenti genitori che hanno paura che sono preoccupati che magari non capiscono fino in fondo perché perché non sono nella testa nostra che decidiamo di fare l'operazione cos'è che consiglieresti loro di supportare la propria compagna nelle sue scelte io per un c'è stato un momento in cui mi sono fatto il problema in cui mi dicevo sarebbe meglio che lei riuscisse a raggiungere il suo peso con la dieta eccetera eccetera però in caponirsi andare per una strada che non funziona non serve a niente assolutamente e se il proprio compagno lo si vede deciso nel percorrere questa strada di supportarlo e non scoraggiarlo e poi so che ci sono delle persone che diciamo sono corresponsabili anche dei problemi di peso del partner perché magari ci sono delle situazioni in cui lo incoraggiano oppure questa dipendenza dal cibo è creata anche da dinamiche psicologiche in quel caso bisogna saper cambiare insieme al partner perché alcune cose poi assolutamente cambieranno ad esempio Anna è diventata molto più sicura di sé molto più decisa più solare ci sono delle persone che magari da cambiamenti del genere nella personalità del compagno potrebbero risultare destabilizzati perché non se aspettano bisogna apprezzare anche queste cose è una crescita personale perché comunque è vero c'è più sicurezza in se stessi e io credo che il fatto proprio di arrivare al punto di dire adesso faccio questo percorso e mi faccio operare è mettersi per la prima volta in un punto di importanza perché ci sono tantissime persone che si chiedono ma come faranno i figli come faranno in ufficio come faranno come faranno faranno sì faranno esatto faranno perché anche la nostra salute è importante e abbiamo bisogno e diritto anche di essere aiutati dalle persone che ci vogliono bene essere aiutati nel modo sano come dici tu se c'è un meccanismo in casa che porta a mangiare nel modo sbagliato e mangiare troppo l'intervento aiuta ma poi bisogna cambiare il meccanismo anche in casa perché sennò si ricomincia da capo se tutte le sere io mi trovasse un piattone di lasagne fumanti probabilmente alla lunga sarebbe complicato riuscire sempre a mangiare le cose corrette le quantità corrette quindi anche all'interno della famiglia della coppia è importante che ci si aiuti a vicenda ci si adatti a vicenda alle novità e non è detto che anche il partner che non viene operato non abbia qualcosa di buono a imparare sull'alimentazione da tutto questo percorso bariatrico io lo sto vedendo con la fra e con le ragazze ne parlavamo proprio ieri sera a tavola quello che ieri era la nostra cena ed eravamo tutti soddisfatti della cena in altri momenti sarebbe stato l'antipasto ragazzi mi piace un sacco il vostro sorriso sorriso di Anna bella lì serena ma ecco ti vedo un pochino più teso non vorrei che sia un'interrogazione però veramente per me è la prima volta che ho la possibilità di parlare con l'altra parte del cielo e quindi è prezioso il tuo contributo ma perché di solito l'altro partner è la prima volta che lo fai o non si vogliono prestare a questa doppia intervista ma sai che in realtà io non l'ho mai chiesto esplicitamente di fare la doppia intervista ma nessuno mi ha detto facciamola insieme al partner che fosse il fidanzato che fosse qualunque cosa è sempre stato un rapporto come dire a uno un'intervista a uno mentre invece per assurdo negli incontri che stiamo facendo che ne abbiamo fatti uno a Merate uno a Milano e uno a Verona si sono presentate anche le mogli e quindi ho iniziato a vedere l'altra parte del cielo però effettivamente nei gruppi nelle interviste è sempre capitato solo il diretto interessato non so se per caso o se c'è dietro un po' di resistenza ma tu sei il primo di quest'anno e mezzo il ricordo più grosso bello brutto il più grosso sicuramente quello della montagna che ti ho detto e poi anche i primi acquisti i primi acquisti di vestiti tipo la taglia M che non ho mai visto in vita mia forse solo da giovanissima e quando ho messo il mio primo pantalone taglia M ho detto no non è possibile cioè in realtà io non mi rendo più di tanto conto del fatto di aver perso così tanti chili nel senso all'inizio sì ovviamente c'è un cambio però devo vedermi la foto perché io non mi ricordo bene come ero prima faccio un po' fatica anche adesso è come se fossi abituata a essere sempre così non lo so in realtà era pochissimo che sono magra faccio veramente fatica anche allo specchio così e quindi penso che quando ho acquistato quelle magliette o comunque i pantaloni così così magri insomma per quello che ero abituato per tanti anni è stato un colpo un colpo ma un colpo di gioia proprio un'emozione un'emozione molto forte sì ma quindi adesso ti riconosci quando ti vedi allo specchio cioè ti senti a tuo agio lo sai che sei tu tra virgolette o hai qualche difficoltà nel vedere che adesso sei no no sto bene anzi mi piace molto sì 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 ti capisco perché anch'io riesco a vedere quanto sono cambiato solo tramite le foto perché nel cambiamento quotidiano anche se è veloce io sono sempre io ovvio che adesso vedo che non sono più obeso nel senso lo vedo ma è come se fossi sempre stato così per me non sento la trasformazione la vedo nelle foto nelle foto sì ed è il motivo per cui stresso tutti dicendo fatevi un sacco di foto sì è vero prima e dopo perché vedrete una cosa che non riuscite a vedere altrimenti sì anche nel durante a figura intera sì quindi Anna partivi da un BMI di 45.1 e come è andata visto che adesso sei normopeso si vede come è andata con la pelle in eccesso ti dirò bene allora nelle gambe è tanta sì si vede un pochino però non mi dà fastidio ecco diciamo così sulla pancia non tantissima pensavo molto peggio sinceramente ma non ho tanta tanta pelle in eccesso e boh sulle braccia così poco e niente ti dirò sì e un po' un po' il seno che si è un po' svuotato diciamo ecco bene Anna senti Anna e Michael io spero di incontrarvi dal vivo presto prima o poi uno degli incontri che faremo zona Milano giù di lì perché dovevamo già vederci al primo tentativo di incontro che avevo fatto addirittura un anno fa poi era saltato è vero esatto spero di incontrarvi dal vivo presto vi ringrazio un sacco per la vostra testimonianza perché io credo che serva a tanti saluto anche tutti gli altri spettatori se non siete iscritti al canale iscrivetevi lasciate like lasciate le vostre domande per me per Anna per Michael scrivete qua sotto e se non l'avete ancora fatto condividete questi video il più possibile grazie mille a tutti e ciao ciao ciao